Entrare nel quotidiano delle famiglie rurali per coglierne l'essenza, il lavoro, gli attimi familiari e più intimi, accanto a quelli più conosciuti. È questo il fil rouge del progetto fotografico di Moreno Vignolini, in mostra nella saletta di Finaosta in via Festa d'Aosta, fino al 28 febbraio 2015. Un progetto nato da un lungo lavoro del fotografo Vignolini, che nell'arco di un anno e mezzo tra l'estate 2013 e l'autunno 2014 ha seguito tre giovani famiglie rurali valdostane, con l'obiettivo di fornire una rappresentazione attuale di questo contesto. La mostra, ideata a chiusura dell'Anno Internazionale dell'Agricoltura Familiare 2014, ha avuto sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta con il patrocinio di Cipro Italia. Era bello il concetto della famiglia rurale, più che altro per il fatto che la famiglia non ha l'idea di qualcuno che poi non lascia niente, ha l'idea della continuità, infatti sono nelle foto anche molti bambini, quindi dall'idea di qualcuno che si è dedicato a ritornare all'agricoltura, perché spesso sono giovani che non avevano un passato di tradizioni agricole, quindi sono dedicati in maniera consapevole all'agricoltura, hanno fatto questo percorso e soprattutto hanno fatto una famiglia, quindi hanno lasciato, lasceranno in eredità questa attività ai figli, mantenendo, e questo forse era un aspetto anche importante che il Consiglio ha valutato, mantenendo dei saperi, delle tradizioni che se no sarebbero andate perse. Il lavoro di ricerca e fotografico si è concentrato sulle scelte che hanno spinto queste giovani coppie a tornare alla terra, pur non avendo una tradizione familiare alle spalle e quindi a cominciare da zero. Scelte difficili che qui vengono declinate, sono tre famiglie che vogliono rappresentare un po' il contesto valdostano, si parla di allevamento, di fattoria didattica, di produzione appunto di prodotti tipici, però il lavoro è stato condotto nella loro quotidianità, cioè oltre a rappresentare il lavoro che loro svolgono tutti i giorni e praticano diciamo nei loro contesti, era interessante proprio per il concetto di famiglia rurale lavorare anche proprio sull'intimità familiare. La scelta un po' del bianco e nero per creare un po' una specie di cortocircuito perché a primo impatto sembrano foto, anche se vogliamo di archeologie rurali, in realtà sono attualissime e anche queste giovani famiglie sono appunto giovani ed è importante riportare il tema di attualità perché è anche quello che chiedono ad esempio attraverso una ricerca nazionale di rete rurale tante famiglie, cioè fare cultura sul lavoro legato alla terra. Moreno Vignolini è stato al fianco di Ruben e Roberta, Davide e Silvì, Elisa e Davide con i loro bimbi, catturando le giornate di lavoro e la quotidianità familiare. Io ho respirato una grande serenità mentale, nel senso che nonostante il lavoro fisico, poi quello che mi è rimasto al di là della comprensione dietro le quinte di questi prodotti è proprio appunto questa serenità, questa fatica esclusivamente fisica, ma una serenità per il fatto di fare quello che nella vita si è scelto di fare. Dai diretti interessati scopriamo la motivazione alla base di questa scelta di vita. Sicuramente non sono direttamente una figlia di agricoltori, i miei nonni lo erano in un'economia di tipo di sussistenza. È stata una scelta consapevole, certo, piena di passione, proprio perché il legame con la terra c'è sempre stato, poi sviluppato in modi differenti perché con l'impegno magari nelle associazioni legate all'ambientalismo, al commercio eco o comunque a prodotti di qualità. Poi crescendo a vent'anni insieme a mio marito ci siamo detti perché non fare di un ideale una scelta di vita e quindi cercare davvero di cambiare il piccolo mondo che abbiamo intorno a noi e di dare un'opportunità diversa anche ai bimbi che verranno. Eravamo già insieme a vent'anni, io ho supportato lui nella sua scelta di cambio radicale di vita perché lavorava in banca, io sono laureata in sociologia ambientale e lui ha supportato me. Lui è vigile del fuoco, io sono titolare di un'azienda agricola, agriturismo e fattoria didattica da 15 anni ormai. Ma che cos'è stato per le giovani coppie convivere con l'occhio del fotografo? Le fotografie abitualmente si fanno in occasioni particolari, vestiti a modino, mettendosi in posa. In questo caso Moreno ha saputo integrarsi molto molto bene nell'ambiente familiare e all'inizio appunto è stato particolare, in seguito è diventato davvero una persona di famiglia. Sicuramente una valorizzazione di quello che è il nostro lavoro e di quello che è poi la nostra famiglia perché sono istanti di quotidianità che si sarebbero persi nella vita di ogni giorno e che invece sono rimasti impressi su una pellicola e quindi ci hanno dato anche valore hanno dato valore ai nostri momenti, a momenti nei quali nessuno mi avrebbe scattato o ci avrebbe scattato una fotografia su un trattore, a tavola, a pranzo tutti insieme oppure giocando in un prato. Non esistono fotografie di questo tipo se non le fotografie che ha fatto Moreno. La mostra rimarrà aperta fino al 28 febbraio 2015, dal martedì alla domenica, dalle ore 9.30 alle 12.30, dalle 14.30 alle 18.30 nella saletta di Finaosta.